Oggi voglio parlarvi di come creare un sito web professionale in pochissimi passaggi. Anche oggi siamo qui a parlare di fotografia, in particolar modo parliamo di siti web, però prima, se non vi siete ancora iscritti, fatelo, è completamente gratuito e magari attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno pubblicati sul canale. Passando all'argomento di oggi, quindi siti web, diciamo che voglio spiegarvi, visto che molti di voi me l'hanno chiesto, come creare dei siti web a livello fotografico, quindi darvi una sorta di linea guida, ovviamente non vuole essere una guida esaustiva, ma diciamo dei punti, dei consigli che vi permetteranno di creare un sito web per pubblicare le vostre foto o magari, perché no, creare anche un blog per pubblicare notizie o articoli dedicati al mondo della fotografia, della post-produzione e quant'altro. Il primo aspetto che dobbiamo prendere in considerazione è come vogliamo chiamarci, perché il dominio, il nome del nostro dominio, il nome del nostro sito web è il biglietto da visita per i nostri visitatori, quindi una volta scelto il nome per il nostro sito web, cerchiamo quindi di scegliere nomi facili che si ricordano con molta velocità, con molta semplicità, dei nomi che magari possono rindirizzare alla nostra persona, quindi cerchiamo di crearci anche un marchio che di fatto si identifica con il fotografo o con colui che va a scrivere su quel sito web. Ecco, una volta quindi individuato il nome, quindi come vogliamo chiamarci, scegliamo anche l'estensione, quindi .it, .com, .net, quindi anche qui attenzione perché a seconda dell'estensione che andiamo a scegliere per alcuni siti che offrono domini, di fatto il prezzo è maggiorato. Mi viene in mente che il dominio .it costerà sicuramente di più rispetto al dominio .eu. Una volta scelto il dominio, quindi il nome, dobbiamo iniziare a capire anche l'hosting, cioè dove andiamo a ostare, a caricare il nostro sito web. Di fatto ci sono delle compagnie che hanno dei server, prendiamo ad esempio Aruba piuttosto che One and One e così via, che diciamo caricano su questi server tutti i file che servono poi per creare, per far viaggiare di fatto un sito web. Ovviamente ogni compagnia ha dei prezzi differenti basati sulla qualità del servizio che vado ad offrire, oppure sugli add-on, cioè tutte quelle cosettine in più rispetto al classico hosting che va ad offrire con dei piani più o meno professionali. Per esempio un'email che ha come chioccioladominio.it anziché la classica Gmail, Hotmail e così via. Oppure alcuni addirittura offrono assieme al pacchetto per l'hosting, diciamo, anche un credito da spendere su Google AdWords a livello di pubblicità e così via. Quindi ci sono varie piane, varie tariffe che possiamo scegliere per andare a costruire poi il nostro sito web. Altra cosa fondamentale che però dobbiamo prendere in considerazione è vogliamo creare un sito web dedicato al blogging fotografico, quindi ad articoli dedicati alla fotografia, alla post-produzione e così via. Oppure vogliamo creare un sito web che di fatto è solo unicamente un contenitore dei nostri lavori, quindi una sorta di, tra virgolette, portfolio. Questo è importante perché in base a questa scelta dovremo andare a determinare come costruire il nostro sito web, quindi diciamo affidarci per esempio a WordPress, uno dei più conosciuti CMS che sono in circolazione, possiamo affidarci a Joomla, un altro CMS, oppure possiamo di fatto affidarci a dei servizi che ci forniscono dei pacchetti già pronti dove dobbiamo semplicemente impostare 4 o 5 cosette per avere il nostro sito online. Se di fatto non ci vogliamo sbattere troppo, quindi vogliamo creare un sito web in pochissimi passaggi, tralasciamo la parte di WordPress. Questo non è un canale YouTube dedicato alla costruzione di siti web, a WordPress e quant'altro, quindi per tutto l'argomento, per tutto il mondo che riguarda WordPress vi rimando a siti specializzati. Se invece vogliamo costruire un sito web senza conoscenza di HTML, linguaggio CSS e cose di questo tipo, possiamo seguire dei piani che alcuni siti web ci mettono a disposizione. Mi viene in mente uno su tutti, Wix, piuttosto che Squarespace e quant'altro. Iniziamo con Wix. Wix è uno dei siti più conosciuti per costruire siti web, è molto semplice, ci permette di costruire delle piattaforme web in pochissimi clic. Dobbiamo semplicemente scegliere il template che vogliamo associare al nostro sito web e poi scegliere il piano tariffario che ci sembra più adatto al tipo di servizio o al tipo di piattaforma che vogliamo mettere online. Un altro sito web che ci offre un servizio simile è Weebly. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di creare un sito web scegliendo il template e un piano tariffario associato. Sia per Weebly che per Wix abbiamo anche una sorta di carta bonus, cioè possiamo creare un sito web gratuito. Ovviamente non avrà un dominio di fatto di primo livello, quindi si chiamerà pincopallino.weebly.it e non pincopallino.it e in questo sito web possiamo già sperimentare e fare esercizio su come muoverci all'interno della piattaforma. Se poi il risultato ci piace possiamo passare di fatto ad un piano tariffario a pagamento dove è compreso poi anche il dominio di primo livello e quindi avere online diciamo già un sito web pronto da mostrare a amici, conoscenti o perché no anche clienti. Se invece ci interessa creare una sorta di portfolio professionale, già pronto, template veramente accattivanti, una sorta di non più web 2.0 ma addirittura 3.0, 4.0, non so neanche a che livello siamo arrivati, comunque un qualcosa di molto accattivante, smart sprint, vi consiglio, anzi vi straconsiglio Squarespace. È un sito web che costicchia, diciamo ha dei piani a pagamento che non sono proprio diciamo economici però il risultato è garantito. Squarespace è un sito creato ad hoc per la costruzione di portfoli fotografici. Ci troviamo per esempio anche dei designer o comunque persone che lavorano nel mondo della moda però è un servizio creato ad hoc per la costruzione di portfoli fotografici. Quindi un servizio molto veloce, ottimizzato anche per la ricerca diciamo su google quindi l'indicizzazione sui motori di ricerca e è un sito web che è molto in voga nel mondo anglosassone quindi diciamo in Inghilterra ma soprattutto in America. Se invece creare dei siti web professionali non è il vostro primo obiettivo ma vi serve soltanto creare un raccoglitore dei vostri lavori magari da far vedere ad amici, a conoscenti, a clienti o a chi che sia possiamo affidarci a servizi specializzati in questo che però non ci forniscono un dominio di primo livello. Faccio riferimento per esempio a 500px piuttosto che a Flickr, a Behance oppure ad altre tipologie di siti web che sono create e strutturate per il mondo dei creativi, fotografi compresi ovviamente. Questo mondo non è sicuramente da disdegnare perché di fatto ci permette un collegamento diretto con i creativi, con i fotografi quindi con colleghi e anche con clienti. Pensiamo ad esempio a 500px. È capitato anche a me o a miei amici di caricare fotografie su 500px e di venderne alcune quindi c'è uno stretto collegamento tra fotografi e clienti che quindi ci permette di sviluppare comunque il bacino d'utenza che fa riferimento a chi guarda le nostre foto, a chi interagisce con noi, chi diciamo condivide i nostri lavori e così via. Se invece vogliamo rimanere all'interno della cerchia dei siti web gratuiti che ci permettono di caricare i nostri lavori possiamo anche prendere in considerazione di creare un bel portfolio e poi diciamo fare un upgrade quindi passare a dei piani tariffari che sono a pagamento. Per esempio prendiamo 500px. 500px è un sito web che permette ai fotografi di caricare le fotografie in maniera totalmente gratuita quindi crearsi una sorta di portfolio condivisibile ma ci permette anche di creare ovviamente con dei piani a pagamento un qualcosa di più strutturato di più professionale. Pensiamo ai piani awesome, pro o pro plus. Ricordatevi comunque che la gestione di un sito web non è un qualcosa di così semplice e che possiamo fare una volta ogni tanto. Un sito web richiede costanza dobbiamo aggiornarlo, dobbiamo starci dietro, condividerlo e creare ovviamente un ecosistema attorno ad esso che di fatto consente il collegamento tra i nostri contenuti, i social network e chi va di fatto a guardare il nostro sito web. Non pensiate sia così semplice gestire un sito web, farlo crescere perché vi garantisco che non lo è. Quindi servirà costanza per portarlo sempre a livelli maggiori. Pertanto pensateci bene perché comunque avere un sito web oltre all'impegno richiede anche una spesa, ovviamente un sito web professionale e quindi diciamo prima di spendere, prima di perdere tempo, ponderate bene l'opzione che avete di fronte a voi. Piani gratuiti oppure spesa con sito web professionale. Bene, abbiamo parlato di siti web fotografici, bene o male un qualcosa di molto semplicistico. Potete trovare più informazioni nel mio sito web e nell'articolo che ho scritto appositamente. Nel box info del video trovate il link per andarci diretti oppure lo trovate sul sito web www.photoshoptutorial.it. Iscrivetevi al canale Telegram se ancora non l'avete fatto così rimarrete aggiornati su tutti i nuovi contenuti che metterò sul web e attenzione perché se avete altre domande io potrò, come ho fatto in questo caso, creare un video per farvi una risposta magari un pochino più approfondita di come posso darvela per scritto. Bene, il video si conclude qui. Io vi aspetto come sempre ai prossimi video relativi al mondo della fotografia e della postproduzione. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e venite a seguirmi su Instagram e su Facebook. Trovate tutti i link nel box info del video. Ciao! iscrivetevi al canale